Ecco, partiamo da qui, dal Narnot 2014, selezionato rosso da Wine Hunter, buongiorno Massimo D'Alema. Allora, intanto è un piacere non essere qua. Sì, è un piacere, io non ero mai venuto, mia moglie è venuta negli ultimi anni, perché noi siamo stati selezionati oramai dal quarto anno che siamo selezionati, anche se con prodotti in parti diversi e devo dire che è una bellissima esperienza, grande pubblico. Infatti a questo proposito un pubblico attento, più informato di prima, probabilmente di qualche tempo fa e anche più capace magari a farsi spiegare qualcosa, ad ascoltare di più e non soltanto ad assaggiare. Assolutamente, assolutamente, bisogna parlare con le persone, vogliono capire, vogliono capire le tecniche di minificazione, le scelte produttive. Noi per esempio facciamo Pinot in Umbria, che insomma non è normalissimo. Certo. Perché, come, come sono messi i terreni. C'è anche un lavoro di ricerca e di attenzione al territorio, per averne il meglio. Fa piacere trovarsi di fronte ad un pubblico esigente, cerca la qualità, che non è qui per mondanità, diciamo, per farsi una passeggiata, ma sì, anche per assaggiare, per capire. E naturalmente questo per un produttore è un motivo di soddisfazione, anche perché poi uno ha modo di spiegarsi, di raccontarsi. Anche perché non sono mica tenere nel selezionare le etichette. No. No, non lo so. Grazie mille. Grazie.